Rubinetti asciuti nel sassarese a causa dei lavori che i tecnici dell'enas stanno effettuando ormai da quattro giorni alla condotta del Coginas, nell'agro di Santa Maria Coginas, molti quartieri a Sassari in attesa che l'acqua ritorni nelle loro abitazioni. Secondo le assicurazioni del direttore dei lavori Ezio Ferretti, i lavori dovrebbero concludersi entro oggi. I ritardi nella riparazione della condotta sarebbero da attribuire all'installazione di una guarnizione che avrebbe ceduto in alcuni punti e questo ha provocato un'ulteriore perdita di tempo perché la perdita ha causato, nel punto di scollamento, un lago di acqua e fango che ha reso difficoltose le operazioni di ripristino del punto interrotto. Una decina di operai che, con ogni mezzo, stanno lavorando in condizioni spesso difficili per la natura del terreno per limitare i disagi alla popolazione, una struttura ormai fatiscente e le cui frequenti rotture e conseguenti riparazioni consiglierebbero soluzioni alternative e definitive. Vuoi diventare perito chimico? Perito meccanico? Perito informatico? Perito elettrotecnico? Scegli il tuo futuro. Scegli The Enjoy Sassari, la scuola che offre più sbocchi lavorativi.